Amici sportivi il più cordiale buon pomeriggio dal comunale di Valgatara dove oggi va in scena il secondo turno di Coppa Italia di eccellenza tra il Valgatara e il Villafranca Veronese tutto è pronto vi lascio alle immagini del match Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti